Luglio 1480. La città di Otranto viene assalita da una flotta turca comandata dall'ammiraglio dell'impero ottomano Ahmet Pasha. La guarnigione aragonese che presidia la città pugliese si ritira perché non è in grado di fronteggiare l'impedo degli assalitori. Così l'11 agosto le milizie musulmane riescono a superare le mura strenuamente difese fino a quel momento soltanto dai cittadini. Ne segue un massacro indiscriminato durato tre giorni. Tra le vittime cade anche il vescovo Stefano Pendinelli, ucciso nella sua stessa cattedrale. Il 14 agosto Ahmet Pasha ordina di rastrellare tutti i superstiti di sesso maschile ed età superiore ai 15 anni. Sono circa 800. Viene loro proposta la scelta tra l'apostasia, quindi abbiurare Cristo, o la decapitazione. Risponde per tutti, secondo il racconto, il vecchio cimatore di lana Antonio Primaldo, dicendo fin qui ci siamo battuti per la patria per salvare i nostri beni e la vita. Ora bisogna abbattersi per Gesù Cristo e per salvare i nostri beni e le nostre anime. Allora a gruppi di 50 i prigionieri vengono portati sulla collina detta di Minerva, presso la città, un attimo fuori dalla città, e vengono decapitati. I resti dei martiri di Otranto sono oggi custoditi in sette grandi teche all'interno della cattedrale della città di Otranto. I loro corpi rimasero insepolti per un anno, fino alla cacciata degli ottomani dal centro salentino. Quindi viene promessa salva la vita, in cambio della conversione all'Islam, ma a loro rifiuto loro scelgono la gloria di Dio, scelgono Cristo e la vita eterna. Che Dio ci aiuti a riflettere su questo meraviglioso esempio di fede che parla ancora ai giorni d'oggi. Grazie per la visione!